Questa legislazione è cominciata ormai 40 mesi fa e è iniziata come Abruzzo facile e veloce. In 48 ore doveva aprire un'azienda ad Ortona che da due anni chiedeva di essere l'apertura. L'azienda è ancora chiusa, sono 40 mesi. Il masterplan è rimasto tutto sulla carta. Ci sembra che di enunciazioni ce ne sono tante, ma di fatti ce ne sono pochi. E questo non lo dice solo Mauro Febbo, non lo dice solo il gruppo di Forza Italia. Mi sembra che gli abruzzesi ogni volta che ci sono dei sondaggi dimostrino che il Presidente torna indietro. Ci sono i sindaci che lo possono testimoniare. Vedi, il 15 ottobre scade per i comuni il termine della presentazione del piano neve, che poi ricordate quello che è successo lo scorso anno. Mi dite ai sindaci come fanno a fare il piano neve se le ditte che lo scorso anno sono intervenute dando un aiuto importante ai comuni, alle province, alla regione. Oggi non hanno ancora ricevuto i fondi. Vogliamo parlare dei fondi comunitari? Beh, il PSR, siamo la terz'ultima regione, abbiamo speso il 5,26% dei 432 milioni di euro. Per il fondo sociale bisognava spendere 95 milioni di euro. Abbiamo fatto bandi, non speso, bandi, il che è diverso, per meno di 15 milioni di euro. Sul fondo dello sviluppo bisognava fare bandi per 130 milioni di euro. Abbiamo fatto bandi, ma non spesi, per 30 milioni di euro. Credo che questi sono dati reali, dati che possono essere certificati. I dati poi dimostrano che l'Abruzzo regredisce in termini di occupazioni, in termini di aumenti, in termini di disoccupazioni. Il Presidente ha una concezione dell'amministrare diversa rispetto a quelle che sono le procedure. Ecco perché i vari dirigenti sono scappati, ecco perché molti di quelli che si dicevano che dovevano venire non sono venuti. Ci sono delle procedure, ci sono delle regole, ci sono degli accordi di programma che devono essere seguiti. Bruxelles sta contestando la rendicontazione della programmazione 2007 e 2013, quella di nostra competenza, cioè i famosi 700 milioni di euro che noi abbiamo spesi al 100%, perché lui non fa ciò che le regole, le leggi, i regolamenti comunitari dicono. E lui non riesce a capire che bisogna seguire le regole.